Musica Ci troviamo in un albergo a pochi passi dal lago di Lavarone e il sole mattutino ci invita a fare una passeggiata con l'immancabile passeggino Circondati dal verde rigoglioso dell'Alpe Cimbra percorriamo l'agevole strada che costeggia il piccolo lago Trentino Questo lago fa divertire e rilassare molte famiglie che approfittano della poca profondità delle acque per delle piccole escursioni in pedalò In mezzo a tanta natura il bambino è rilassato e i suoi genitori non sono da meno La purezza delle acque del lago attira molti turisti che trovano percorsi agevoli, zone balneari e punti attrezzati per la pesca Il sentiero è largo e ben battuto è semplicissimo guidare il passeggino ma al tempo stesso si ha la sensazione di essere totalmente immersi nella natura incontaminata E anche quando il bambino si stanca di stare seduto nel passeggino non è un problema farlo camminare con noi mano nella mano Chissà, tra le numerose famiglie che vediamo in quanti sanno che intorno a questo lago passeggiava Freud quando veniva in vacanza Questa quiete ha fatto addormentare il piccolo e noi ne approfittiamo per continuare a goderci questo angolo di paradiso Farlo tutti insieme è sempre più divertente specialmente se sappiamo che ci aspetta un meritato riposo